Buongiorno amici di Arte Bianca, eccolo qua, impasto per teglia romana, andiamo a vedere la formatura dei panetti. Qui abbiamo un chilo di farina di forza tra i 300 e i 340 di W, 800 g di acqua su chilo di farina, 7-8 g di lievito di birra fresco, 20 g di sale e 35 g di olio. L'ho lasciato un'oretta a temperatura ambiente e poi l'ho posizionato in frigo a 5-6 gradi ed eccolo qui. Si stacca bene dal contenitore e vado a porzionare dei panetti da circa 550 g, 600 g. Ed eccolo qua, qua il primo, all'incirca ne verranno 3 di panetti da questa ricetta per una teglia 40x30. Allora vi faccio vedere la prima stesura, ce ne sono diverse. L'importante è non dare troppa tenacità al vostro panetto, se no rischiate che si allungano oltre ad allungarsi i tempi che poi avrete problemi in stesura. Vedete, io ho preso dei lembi e poi questa chiama la classica chiusura a fazzoletto. Una volta che vado a terminare la chiusura, cerco di sigillare bene i bordi sotto e di controllare che sopra sia liscio e omogeneo. L'ultima chiusura, vedete, adesso noto che ha già la sua struttura ed è liscio e omogeneo. Andiamo con il secondo, in questo caso vado a prendere i lembi e li porto all'interno e dopodiché incomincio di nuovo a sigillare fino a quando noterete che la parte a contatto col tavolo incomincia a diventare liscia e omogenea. Lo sentirete anche sotto le vostre dita che inizierà a prendere struttura, a prendere un po' di tenacità. Mi raccomando, non c'è una regola fissa su queste chiusure dei vari panetti perché bisogna anche capire come ha lavorato in massa l'impasto. Da lì potrete capire quale chiusura sia meglio eseguire per il vostro panetto. Adesso questi panetti verranno messi a lievitare per circa 3 ore a 28-30 gradi e poi andrò in cottura. Cottura 280-300 gradi, solitamente si divide cielo e platea tra 70 sotto e 30 sopra. www.consulenteartebianca.it per tutte le tue consulenze personalizzate. Ciao!